dobbiamo iniziare quindi noa 5 you are correct who is the map maker spira pure 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 ragione how much is the bujable ending quanto costerà la bujable ending secondo me 30k che 20 25 30 40 30 30 io caro non sono riuscita a sparare dovete tirare via gli zombie lo aspetta un attimo porta via gli zombie deve da lì la spara deve spara oddio porco sono dato giù sono dato giuraga fra dove che sei tu scusa fra sono qua sono qua ma sì di sopra oh shit oh shit oh shit comunque fa davvero schifo quel coso da 10.000 secondo me c'è qualche bug che insta kill insta kill vai 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 ora 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 bravo bella 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 io tiro su sven a ciao ci sei anche tu non ti tirerei su per quello che hai fatto prima va fa culo allora 30 si you are correct what is the custom perk cold come è chiamato il custom perk dottor dagger double due coco pobs turkey cola secondo me dottor dagger double due double due double due hai ragione yes game unlocked grandissimo quindi costa 30 mila nel game raga chi ce ne ha cambio la bb cambio quel lancia fiamme di merda con la b23r perché fa davvero cagare con lancia fiamme che debba sbloccare e la pistola di merda perché il tuo lancia fiamme faceva davvero cagare lo dici te cazzo adesso lo compro io vedi cosa faccio è quello da 10.000 fa schifo proprio quello da 7.000 magari più forte per me con la 7.000 più forte per incuriosire quella 10.000 così non fai sì sì non fa il figo esatto ti tirare con sorpresa sei bene allora abbiamo sbloccato devo so controllare che costi effettivamente 30.000 18.000 siamo 18.000 vediamo 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 madonna raga siamo fortissimi secondo me mi toglie un'arma c'è al posto di un'arma 30.000 il lancia fiamme si è posto di un'arma wow ho comprato quello da 7.000 7.500 intanto è speso è ciao poveri non è che è come quando spendi qualcosa 59 euro e 90 non è che sono 59 euro invece sono 60 60 euro e non è così ok ragazzi siamo stati davvero bravi a rispondere alle domande lì e c'erano siamo stati dei capitani coraggiosi ne abbiamo sbagliato solo una volta la magnum che bestemmia se ne sbagli più di una volta perché due minuti d'attesa comunque in realtà è fatto per monetizzare il video di me comunque si perché spiral era il tizio che aveva fatto gli script eppure era quello della mappa se che erano nella schematica ricamente bella bella guarda ven sta girando come insegnato per questo è andato a terra prima non penso proprio io premerei tab intanto vedrai chi è andato a terra più volte io non sono in cui io non figuro in quella lista quindi un attimo aggiornarla se vuoi poi aggiornarla vedi un'altra volta e sto mettendo l'arma del paga punch mi coprite grazie per la copertura amici ragazzi il fuoco è un cesso atomico c'è veramente una merda anche quello da 7500 vero quello da 10.000 è uno schifo è tipo spara veramente è un fiammifero ragazzi c'è spara per 3 secondi e poi e poi basta c'è uno si aspetta chissà che cosa una bibita finalmente wow la double due boh io corro più veloce non so perché bene forse la stamina udici tu intanto non si dico queste cose ok va bene dai ti prego ti mancano 10.000 punti fra non il ballista comunque ringraziamo ven per la partecipazione straordinaria a questo video grande ven è lui che lo aspettavamo con ansia esatto dopo trezzi questa ciscube è la mappa in cui devono esserci le comparse proprio è cosa fai fra in che senso non era fra era ven io sono qua cosa fai ven niente non puoi rispondere non parla io sono qua sopra fra non ci sono tanti posti dove puoi nasconderti eh potresti potresti tornare giù volendo non lo so eh incassineva il vostro giù nooo non non avevo il jug ah ah oh vabbè se premi il tab ancora la classifica tecnicamente che caratterità perché se al coltello della terra ti polili elettrifizzo no io li elettrifizzo perchè mi ho pack e panciato due volte la capa e tu che mi fai credita guarda ven e ven dammi il tempo di arrivare a sparare però eh tirali via li zombie però non puoi tirarmi su con gli zombie Parco due Fra ti prego puoi scendere tu Ho che fare con un gruppo di idioti Andate via da qui Via con gli zombie Fra ti prego salta e rianimami adesso Fra veloce Adesso vai fra 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 Non ce ne sono Ti copro io fra Vai tranquillo Fra ti copro io C'è una di quelle armi per potenziarle Le prendo perché sennò va via Ok grazie fra Madonna mia ho i giocatori di squadra Erano lì che giravano con 50 zombie intorno Che dici il problema potrebbe essere la comunicazione La? La comunicazione? Può dici eh Può essere Potrebbe mancare Venn in effetti nel chat vocale Allora fra restituirò il favore? No Venn è stato bravo Bravo Venn Però deve rimanere un idiota Sì sì ma intanto guarda veramente Deve rimanere un coglione Ok previ tab e guarda le kill Guarda come cerca di appigliarsi Previ tab e guarda le revive Non mi interessa non li vedo Ok va bene A posto Ancora 2000 punti per Francesco Macchiarella Che è qui quest'oggi Comunque nessuno ha il jug tipo Ma io sicuramente no Bene quindi Mi conviene forse a raga venire un po' su eh Perché stiamo per fare l'end forse eh Allora cerco di scena Raga salite End Raga Cioè perché noi non ci comuniciamo Ah per Per Venn Dai era generalizzata Hai capito? Sei veramente una persona di cuore Guarda venne già qua intanto Tu non me cazzo è Che picchiato quel bambino di otto anni per cinque euro Fra 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 con quante ebbe comunicazione scusa Ho scritto velocemente va bene? Comunicazione ragazzi la comunicazione Con buona ragazione del servizio Cioè ragazzi neanche il mio bidello scrive la comunizzazione Allora ma non dico più No Fran non dirò No Fran Sì beh Se la si farà fra gli ultimi 200 punti potremmo forse scappare da questa mappa Quanto? Cosa facciamo scappiamo o facciamo altri due tre rounder? No vediamo se c'è qualcosa di segreto Non penso ci sia altro segreto Quando spasseremo di qua probabilmente sbloccheremo la zona segreta Segreta Ho preso un pacca a pancia segreto vaffa Molto bene raga Dai 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 su 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 Io sto finendo le ammo quindi secondo me Raga siete pronti? Anche questa volta i convinti su una mappa convinta Come ci Scoob vi portano Come cazzo si permettevano a permettere Endgame e Fra Chiamalo questo Endgame Chiamalo Fran chiamalo Chiamalo Zombie best multi proud Ha sbagliato doveva mettere la B Ha messo la K Ma vabbè ha sbagliato Raga siamo scappati Ah no c'è Ven Però è entrato dopo Che è entrato dopo Raga siamo scappati Da cheese cube Comunque a terra non male eh Non male dai siamo tutti un po in parità Quindi a parte Debe che fa cagare A me è anche lasciato Perché anche Ven è entrato dopo Quindi Debe insomma le volte a terra Mica tanto bene eh Raga grazie a tutti per aver seguito questo video Lasciate tanti like ringrazio Debe Ringrazio Fra Ringrazio Ven per la comparsa Ci sentiamo al prossimo video Da ZOVEST Debe e Fra è tutto Giusto è tutto? Avete qualcosa da aggiungere? Debe è silenzioso un po' incazzato forse Perfetto Perché ho fatto capire che sono veramente Più forte Molto bene No raga non ho registrato Non funziona più Era divertente nel 2008 Oh però c'hai quasi creduto eh Aspetta aspetta No aspetta così devi fare aspetta Si chi è? Ah niente è bussato il 2013 Riguole le sue battute Oh simpatico eh questa anche era del 2017 Vai dietro Che cazzo vuoi alla fine pochi mesi fa? A posto grazie ragazzi ci sentiamo a tutti Ciao 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 Ciao